Salute a tutti e benvenuti a Sovessapurda, un programma di cucchiai che girano sul mondo. Possiamo farvi conoscere le ricette da Italia e dell'America Latina. Per girare sul mondo vedo che non lo puoi farvi fare per persone e accompagnare in questo viaggio un esperto di cucchiai, Daniele, che non imparano i segreti della cucchiai. E' importante, però, cose che si imprese, che si accadeva in tutto il vetto. Salute e benvenuti. Buongiorno a tutti. Siamo in questa avventura di cucchiai. Salute a tutti, buongiorno a tutti. Siamo in questo viaggio sul mondo. Noi siamo in Italia, poi andavamo a vincere questa America Latina. insomma, noi vedo che non possiamo andare da persone, non possiamo spiccare l'aereo, non è nuda. Abbarrammo in cucchiai, ma girammo a Zicco. Sì, si intende a cucchiai. Una volta che c'è la gente con un sacco, con il suo pensiero, è atteso. È atteso, è atteso. Giusto, puoi non pensare a tutte le cose, perché non ti capiscono in questo periodo. Sì, hai ragione. Ci sono gli ingredienti che imprimiamo in questa ricetta, in questa ricetta, in questa ricetta, sono gli ingredienti che poi sono uguali in tutto il mondo. Sì, è proprio la cattaria. Sì, è in tutto il mondo. Sì, è in tutto il mondo. Sì, è in Campania, esattamente a Napoli. A Napoli. Poi quando lui va, si sa, in i sfracoli di Napoli, i sfracoli tutti. È una cosa... Tocca la da bibi, poi a me la pensano a Napoli. Invece Napoli è bella, è accogliente. Tocca la da bacilli, gli sfracoli, i sbocci, i saggenti. E la ricetta è una tradizionale della ricetta, ma del grande gusto. Oggi va a usare una pasta ammisturata, quindi, la ricetta della pasta che ha parlato, si può entrare a tutti i sfracoli. E va a usare con un ingrediente altamente proteico, da cercare prima la sapienza dei sfracoli, sul vasolo. In questo caso specifico sul cannellino. c'è questo vasolo bianco, in colore bianco che è accattato con la buona in tutta. E questa pasta che è il vasolo, tu hai sempre questa pasta che è barata, no? L'escritto su. No, ma non si è scoperto, non si è scoperto. Come si è scoperto? Però sicuramente capita sempre, se tu hai coccato il macarrone, il minestre, e ti ha barato sempre su buona. e tu hai toccato attenzione per la cottura. Sì, sì. Tocca di mettere la pasta che c'è in più. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. la pasta che c'è in più come si è in più riciclata e tornare a impiegare questo resto di pasta che è sempre scoperto. Sempre. come si è in più questa pasta che c'è in basso la pasta che c'è in più si è in più in tempo di cottura a pezzi di gusto. No, basta dire che oggi la carta si è già misturata pronta. E' tutto mancato il formato è diverso. Ma quello che vuol dire? Sì, diciamo che nel tempo di cottura è sempre uguale. È sempre uguale. andiamo a narrare i tuoi serbi di chi i serbi in qualche cosa perché noi vogliamo fare una cosa che possiamo fare con questa cosa che siamo in dolore. Donare la studio, io ci provo. Chi sbaglio non puoi dire mai. In tanti abbiamo usato una rammata in grappola salio azzù azzù poi abbiamo usato origano non mi ricordo come si è rammata si è morito si è misturata mettiamo sull'aura si è avvolta sull'aura sull'aura e sull'acqua e poi non nemmeno mancare una cosa mia sull'acqua sull'acqua nonostro nonostro è sconcato il mondo e poi partiamo e vi faccio questa ricetta pari veloci ma poi ci sono dei piccoli Mi credo sul tempo suo Io vi ho detto come ti faccio vedere e mi prendo il cuore Fantastico Poi usci, pagu pagu Sado matta Ti fai usci mentre tu ti fai usci Da incide usci di Aici Accanto a onde c'è di Aici Fai usci una bella grucia e poi usci in acqua buddhia Poi ti fai usci e ti lascio in un minuto Ah ecco Però ti fai usci Sì, saperdi è più facile da bocca Perfetto Si crea la gussaria tra saperdi e saperruppa E' più facile da tirare Sì, è un lavoro che ti fai Ah, non ti fai capire Non saprò più acqua Giusto per farmi comprare che non è che ti fai usci Non c'è nemmeno Non c'è nemmeno Non c'è nemmeno Non c'è nemmeno Poi ci fai usci Se fai usci su vasolo con una o due sfoglie dell'avro Poi ti fai un sapore decisamente meglio su 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 se su 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 pre su 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 Aggiungiamo il gusto 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 Ma anche la ricetta tradizionale tradizionale napoletana è nata che il gusto è riposto a crudo A crudo, sì Però il gusto Ma naturalmente Guardiamo il gusto Invece Tutti i legumi Per uscire Se non ci sono Noi sono Noi sono Noi sono Siamo Nel momento Aggiungiamo Un momento Un momento E' Quindi In quanto riguarda Assorbire l'acqua Poi si tratta di un'antivergia in un vaso di essiccazione e poi si tratta di essere fresco, si tratta di un vaso di fresco Poi non si tratta di un vaso nudo, nel senso che chi è in domo dei nesi che si tratta di un vaso in scatola Ah ecco, quello che vuoi dire di fatto Si tratta di un vaso di fresco, e se si tratta di un vaso di fresco, a tutti si tratta di un vaso di fresco E poi si tratta di un vaso di fresco, e poi non so se non tieni tempo, e se fai dei commenti di creare Certo, certo Di fatto, forse si, l'unamo si può timbrare e vincere il vaso di fresco, lo scatate nel vaso di fresco Si Sì Perchè non ha tempo che ci siamo sempre sottotra ballando, insomma, si fa che non ha un montone di... De zero se dunque il mancare è più facile E io ti dobbiamo in noi E io Dobbiamo girare il vaso di vaso di vaso Poi ti vuoi dobbiamo fare una bagna Ah ah E io tanto mi picco su tageri E io non mi faccio frisca, ehm Dopo ne ho su noi Spero che ti vedo E poi faccio il sale Cruzzo Tanti Si scalla subito In questa acqua che butti Due sfolli Mari, ti voglio domandare? Non mi raccomando? Non mi raccomando Certo Se c'è questo lavoro del suo lavoro di Aici Ti dobbiamo fare un'intro Ah, provate il lavoro Ah, provate il lavoro Ah, provate il lavoro Non mi raccomando Tutto su... E poi su vasolo Bene Con questo vasolo Ad ammudire due ore Quindi... Ascolta, ma perché è il sale Il sabato Per ammudire? Che non ha una borsa De ponte su sale Il sabato Quando pone il vasolo Per ammudire? Per ammudire? Per ammudire? Acqua Per ammudire il vasolo Per ammudire il vasolo Certo E poi... Oh, sta bene In questa maniera Si tratta sul pizzo Si Tratta subito Per ammudire il vasolo Infatti... In questa maniera In questa maniera In questa maniera Per ammudire il sabato E' veramente facile Si tratta di ammudire il vasolo Scusate Scusate che ti chiede un pizzo No, no, no Per ammudire la volta Puoi accortare Per ammudire il vasolo Ecco In questa maniera 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 Un altro pittello di aici Ecco Un altro pittello E due buoni di aici Ecco In questa maniera Eh? Aumentiamo sempre L'oliva Sempre L'oliva 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 Buono Buono Aggiungiamo il suo fuoco Facciamo i sapori A solo Con sal E poi Un'altra cosa Ma è importante Che ti dico Adesso 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 Ascolta Ma che rende A chi è la grattissaggio Poi 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 Adesso Adesso commenti moci dopo poni sadomata frisca poi una porta che sa bagna è pronta che ci vuole di dare il rubago ci vuole di 10 minuti non mi chiedete chi coppa troppo già gli è buona gruva la salsa proprio sul sapore di sadomata ci vuole sapere con sali giusto c'è questi chini dall'unghia da voi in uno secondo momento con un po' la salsa di sadomata cosa che tradizionalmente si va di con sadomata già in settembre quando ci fonti sadomata con la nascita, la sede, la marzana, la sede questa specie di sadomata non si da 20 minuti e 20 anni passata dopo tutti sanno ancora c'è chi ne fai te o tu fai però è più se ne fai 30 40 metà volta si ha due spazioci io l'ho detto altra volta si dura da due mesi dipende di te su su che io non ti fai e noi stiamo andando più a su con la duriera dell'inna dobbiamo tanti di girare si lo giriamo su solo stiamo andando ma vai a su questo traballo noi dove sei a su a quanti calor dunca spero più prova che si abbagna tanti voi con il suo caliente si spappano tanto in qua in caso di spizzola da giudare pure con la gugliera è giusto un po' di noi che dove sei aggiunti di nuovo pure hai già coita del rosso sei pronti su? bene ma questo è tutto ovviamente do 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 attenzione con questa questa acqua che tenete è stata andata è certo con il soldo carnetto fai di questo traballo ci sono attenti su poi mettiamo su acqua acqua e noi entro ora mettiamo su acqua intanto dove vai ad andare? dove vai ad andare? su acqua è buono si è proprio da una macchina frisca mettiamo su acqua su acqua 20-20 minuti a seconda dei commenti grazie invece è stata matta una macchina di minuti ecco acqua ecco ecco acqua 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 non è possibile usare vero? non è possibile non è possibile non è possibile usare non è possibile usare non è possibile usare si si ah la sposta ecco non è possibile usare prima e dove vai ad andare? ecco 10 minuti in 10 minuti su arrivereà la cottura grazie bene su poi ognuno deve sapere sì il è pronto e vogliamo sapere perché la mattina è pronta che è tutta scalata è pronta bene no Sì. Sì. Noi abbiamo sposto senza rispizzolare, ma si può deponere fino a rilassare. Sì. Ma questo dipende dal gusto. Sì. Noi siamo i primi ragazzi. In ora, le operazioni costano. Dopo aver fatto il vaso con 15-20 minuti, in un frattempo, la sbagliata. Poi, in un tutto il vaso con la sbagliata. Ecco, la sbagliata che si lavora e che si va solo. Tutto il vaso. In questa operazione, facciamo in un tutto. Poi, va bene. Tutto il vaso. Questo ti dà un po' il tutto. Sì. E noi. A fuoco. Bella, 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 bella. Va su. Deppi da andare. Un'ora, un'ora e quarto. Sempre a gradimento di cottura. Adesso va solo. A uno di braccio di brucotto. A sapere non mancare più su. E tu fai su. Andai. Quando è pronto, 10 minuti prima, ci fai su questa pasta. La pasta. Donate sempre attenzione ai sapati liquidi del composto. Poi, cosa? Poi, quando ci fai su questa pasta, che accipa a me, c'è un po' di acqua di acqua. In questo caso, un tipo di acqua di acqua di acqua. Però sempre prima. Poi ti dà un po' di acqua 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 di acqua. Sì. Sì. Perfetto. E adesso, uno è più bravo. Poi questa cosa, no. Questa cosa, con il suo tempo, è più bravo. È più bravo. Tocca da gestire prima. Chi non lo fai, è meglio. Menzo. Però, insomma, si provano sempre a recuperare. Non è bisogno di acqua di acqua di acqua di acqua. Sì. Per recuperare, ponete a burdire già a base di acqua di acqua di acqua di acqua. non è possibile, ma mentre il mio frattamento è che c'è a order, però, ha la pasta. Bene. Poi… e poi a riposo andrò… A fare clicca la acqua di acqua di acqua di acqua di acqua di acqua di acqua. Sì. Ma non ha bisogno di acqua di acqua di acqua di acqua. Sì. Ma ci si consuma da tutto. Non posso andare a prendere e aiutare con la acqua di acqua di acqua. Ma non può andare a consumire tutto, ma si può fare una pasta. Noi si farei l'accio di acqua di acqua di acqua di acqua di acqua. Perfetto. Però, Ti portiamo sul labbro, sul labbro, sul labbro e tu fai usandai ancora. Iniziamo, Mari, sei pronta? È il burdino di sapere. Arriviamo con questa consistenza. Se bagna e se proprio coglia bene con il vasolo. C'è il burdino di sapere, una cremina, un baguette bruno. E' meglio usare questa pasta. E ora voglio sfruttare questa pasta. Questa pasta è una pasta misturata. Non è tutto uguale. Inizialmente si può finire in Sassave Maria come tesinata, no? Esatto. Però questa è una tradizione napoletana. Allora, ora lo mettiamo. 8 minuti su. Noi sono un po' comodità. Vi faccio gli ossetti. Poi, quando faccio l'impiantamento, in corso di un minuto, tenete ancora la calentura a me. E continuate a cocare bene. E quindi, quando faccio la pasta dentro del vasolo, che si bagna e chiede. Ogni attacchi andate a girare. Poi, tra noi dobbiamo gestire l'acqua. E attacchi andate a girare l'impiantamento. Sì. 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 Come ho detto con Daniele, ci sono alcuni di questa calentura. E quindi, non è proprio liquido liquido. È tipo una cremichetta. E quindi, bisogna girare. 8 minuti, più o meno. Poi, dipende dalla pasta che ponesse. Poi, costa, però costa bicherne. 8 minuti. Da la sua sumpage, dove vai a fare. È certo. Io gli prego la visione che da venire, non dovrei parlare di dire che anche questa problematica vaетровbbe la più danciata. Sennò con la nostraarenza a originarli, mi faceva la visione. E a me penso che quando già c'è una Genoa percare il dipendimento non ricordo la minima lingua. Quindi, siamo con... Questa pasta è cotta per 8 minuti, non so ne ho manco E come a vero è una cosa distante? Da postura, è pronta E come dunque ci devi fare? Sopreparare un brattigetto da lui? No, devo far sassare il dunque, sennò non credo Che è buono Un bel brattigetto, poi il brattigetto vuole lasciare su E cominciare con l'impiattamento Come vi dite la bellezza di questa pasta? Eh, bella Ha trovato un po' buona È certo Oh, è bella che non sa neanche la sassare Che stai a fare oggi? Eh, bella la sassare Eh, bella la sassare Eh, bella C'è la sassare E poi fai a fare oggi E poi fai a fare un peccorino Una bella trattata di Cazzo e il pecorino e il pecorino non ci sono tirato un po' di caso e la coriola e il pecorino lamentiamo che questo è un caso sardo fiore sardo un caso nostro buono e beh vi chiedete dai e poi dono e poi stai ricordando mamma mia è certo ma ti lavacchia mamma tua questa lavacchietta sempre è un lavacchietta che non puoi fare i donati però in San Mesa una porta si gira mancaino però i donati si lavacchietta bello ma su d'occhio i serbi l'ultima cosa certo questo è prima è un origano si lavacchietta è proprio fresco con i suoi naturalmente ecco ma Napoli pure è una città del mare siamo pronti ehm un po' di caso che non si servono su prato ma chi si bia da puro su cazzo paco paco di aici questo è su prato tu l'assassi o no e l'impiato su e io devo assaggiare gli manca a te in occhio una cosa ehm su caso se no no non potete assaggiare eh bene se no no non mi credo che il buono eh devo pensare di sì però eh ma tocca dell'assaggiare che manca il passanchino è vero che siamo scucchinando eh è vero questa è una cosa che mi capita questo è proprio siamo scucchinando è vero che l'ingrediente è vero è buono ecco l'assaggio quindi adesso muocare la mascherina si tira adesso e fa cosa assaggio guardami chi è andata chi è braggio chi è braggio non vuoi imponare nulla tu riesci a fare la stai buro anche in questa palestra delle telecamere mi piace vediamo se ne rilassiamo anche in questa palestra delle telecamere una tera cullera e come possiamo aumentare il bicchiere che è vero sono due ingredienti e quindi questo sul vasolo lamentiamo che questo è un vasolo cannellino non c'è un vasolo bianco che è accattato in ottobre che è riposto di essicco per la nonna Daniele che è riposto a modicare il sabato lo devi esponere a cocare il sabato che si rafforzano dei lavori il sora si vede una bagna impressi impressi che è stata matavrisca sozzù e sazzù se che riesce io lascio in intro se non ho commentato il fattunoese luponese che non si spizzolano lascio andare una decina di minuto ci sono chi coca e il vasolo e apposta che lo chiede il sabato che è cotta cotta e non si ci sono una ricetta buona e che lo chiede su un vasolo chissà cosa vuol dire che lo chiede e lo chiede e lo chiede e lo chiede ma lo chiede che è buono e lo chiede quando vi dice che il vasolo è come la cottura e lo chiede e lo chiede e lo chiede questa pasta questa pasta è una pasta misturata il resto della pasta dipende dalla marca ma 8-10 minuti d'oggi ricordavo sempre che per questa pasta tenere tempo su di cottura ma non su per una pochina è fatta bene ecco ma questa è una cosa che forse non tocca ma la volta uno non tenere tempo se non c'è la pasta di 5 minuti insomma se cazzo non c'è la pasta che vuole 5 minuti si scalla e allora bisogna guardare attenti su questa cosa dunque una media di 8 minuti non per un spacco di 8 minuti e poi al servizio quando è scotta la pasta e la servizio questa è una crema la ponesa su prato lì frattare su caso per vecchino e stagionale lì e poi si sentiamo a bere un spettacolo e poi basta è toccato in giro unica cosa chiamata si e la servizio è un prato povero che la salita vi considero l'anno ottua per la salita spettacola di mancare ma non per il vasolo, ma per il vasolo pittuto, per lentezza, forse si entra in lentezza, pisello e il vasolo pittuto, il tipo di vasolo è proprio quello che vi considera per il povero di tutti. C'è da me, però il gusto del ganellino in particolare si è per il povero di tutti. C'è un'importanza di questo prato napoletano, non so, basta dimenticare a Edoardo De Filippo, che proprio l'ha posto e vince il suo film su Oso e dunca è proprio la dà usa patente del prato tradizionale. Poi, tra Sardegna, in continente c'è da me, non c'è nessun altro gusto, ho dei gusti da Campania e ho pensato proprio al gusto. che in Sardegna ci hanno fatto un po' di santa, questo è spuro. Non c'è nessun ingrediente nostro e in maniera nostra. Abbiamo visto questa ricetta originale napoletana, mancare le patate in maniera spura, rischiamo, no? In cucina abbiamo questa fantasia, e dunque, se cada uno si lo va a te come te prulla graditi. Però, insomma, noi si possiamo scherzi a dare un'idea. E dunque, a te buon anno, torna la facchera e buon appetito, no? Buon appetito e alla prossima. Noi vediamo su a santa puntata e buon saluto. Adiosu! Sì, beiosu! Sì, beiosu!